Benvenuti amici di Music Off, oggi facciamo uno spin-off nello spin-off delle nostre scorribande tra dischi, musica e hi-fi, come in questo caso. Lo facciamo con degli amici, Marco Fullone che già conoscete perché insomma abbiamo già fatto tanti video insieme, e poi con due nuovi, tra virgolette nuovi, perché oramai sarà un annetto che collaboriamo, amici, cioè Giulio Salvone e Giancarlo Valletta di Audio 2G, sito che poi vi metterò qui in descrizione e vi invito ad andare a visitare, che sono due grandissimi esperti, e quando uso la parola esperti lo voglio sottolineare perché veramente hanno vissuto il mondo dell'alta fedeltà, insomma un bel po' molto più di me, ovviamente anche per questioni anagrafiche, mi scuso con loro, e ci racconteranno un po' cos'è questo mondo, come si fa a entrare in questo mondo, perché non bisogna averne un po' paura nonostante quello che poi spesso siamo abituati a immaginare, e che senso ha ovviamente per una persona insomma che è appassionata di musica, però vuole elevare un po' il suo livello di ascolto e perché, ora vedremo, nel 2024, ecco come si fa, perché ancora il mondo i-fi potrebbe, può essere, e lo è, una grande, grande occasione. Allora io intanto grazie a tutti di essere qua. Grazie a te dell'invito. Farei, benissimo, farei un primo giro di opinioni, però spiegando prima di tutto che cos'è, insomma l'alta fedeltà e soprattutto come fa qualcuno a iniziare a addentrarsi in questo mondo. Inizio, faccio giro anti-orario di come vi sto vedendo io adesso, non so ora come sarà nel video, ma io ora che siamo noi nel backstage li vedo così, quindi partirei da Giulio, poi Giancarlo, e poi Marco a seguire. Allora, come ci si entra? A me viene difficile poterlo dire, nel senso che il Giulio Salbioni di 14 anni, quindi adolescente, post-adolescente, aveva a disposizione un limitatissimo gruppo di hobby, passatempo, l'audio, l'alta fedeltà, quindi la musica, il motorino, lo sport, che io non praticavo, basta. Cioè non c'erano tante cose, e appunto andare appresso a qualche ragazzetta. E quindi veniva automatico, era qualcosa che non era una stranezza. Più o meno tutti i compagni di classe anelavano ad avere uno stereo, più o meno tutti si interessavano un po' di musica, quindi veniva molto naturale. Io semplicemente ho proseguito questo percorso, non ho smesso di giocare con l'audio, neanche con le motociclette, fino alla mia età. Perché lo faccio? Al di là del divertimento e della fascinazione nei confronti dell'oggetto, io credo che l'audio, di un certo livello, sia un percorso, un approccio di tipo culturale, alla musica. Mi spiego, se si comincia a frequentare un po' il mondo della registrazione e non ci si limita a una fruizione passiva, si scopre che il disco è un percorso complesso che nasce da un'interazione di tipo artistico tra artista, produttore, e una miriade di figure che si sforzano tremendamente di mettere su un supporto una loro idea artistica. Se questa idea artistica non viene fruita nella sua completezza, ma viene fruita malamente attraverso un sistema che è irrispettoso di tutto questo sforzo, si fa un torto alla cultura, si fa un torto agli sforzi di questi artisti, alla loro idea artistica. Quindi per me è necessario un approccio di questo tipo. Poi, ovviamente, nelle varie declinazioni. Scusa se ti interrompo, ma si fa un torto anche a se stessi, perché si perde una parte del contenuto che poi diventa invece fondamentale. Quindi bisognerebbe capire che oltre a mortificare il contenuto artistico, ci si automortifica perché si perde qualcosa che del contenuto, del messaggio e quindi dell'arte fa parte. Scusate la rima non voluta. Scusa Giulio se ti interrotto, ma mi sembra... No, no, io l'ho finito. No, poi aggiungerei io questa cosa, che ovviamente condivido al 101% che aveva detto Giulio. Il fatto che poi la risposta tipica, diciamo, di chi è un po' diffidente da questa cosa, da questo mondo, è che si va nelle emozioni. Quindi dice, per emozionarsi bastava una volta anche i mezzi, i scrausi che avevamo. Questo nessuno mette bocca. Io ho grandi ricordi. Ci si emoziona in qualsiasi maniera, eccetera. Fare lo step oltre è proprio andare ancora di più ad emozionarsi. Quindi non è un manierismo, anzi un feticismo, come spesso viene detto. È proprio andare ad alzare questa sticella dell'emozione il più possibile, perché poi alla fine è la musica, cioè il fine è ascoltare la musica. Ed è una cosa che chiaramente fa emozionare. Se tu riesci a calarti dentro, ma in qualunque situazione, se vai a un museo e guardi un'opera d'arte da 10 metri con il vetro sporco, se la guardi da un metro al vetro pulito, io penso che tu ti emozioni di più, nonostante l'opera d'arte sia l'opera d'arte. Ecco, questo è un po' giusto per compensare magari il primo commento che di solito arriva, no? Il secondo è cosa tutto troppo. Il primo è di solito le emozioni, basta qualsiasi cosa. Giancarlo, aggiungi pure quello che vuoi. No, beh, io ho cominciato un po' diversamente da Giulio, nel senso che nella mia classe e nelle mie frequentazioni non c'era tutto questo amore per Ray-Fi, ma me l'ha attaccato mio nonno comprando lo stereo di selezione da Reader Digest, che forse qualcuno di voi ricorda, un catenaccio infame. Esatto, anche Marco ce l'aveva. E io, che ero già appassionato di autocostruzione, ci misi una testina sure, perché all'epoca c'erano le testine piezo, diciamo, facendo delle modifiche, quindi sono sempre stato poi appassionato da una parte dell'impianto e dell'ascolto della musica e dall'altra anche del tecnicismo. Io credo che in questo momento storico ci sia una grande occasione per chi vuole sentire meglio, perché noto, e l'abbiamo visto con Giulio adesso che stiamo stati al Monaco High End, forse 15 giorni fa, sempre di più avvicinarsi dei produttori cinesi di basso costo a una qualità media molto alta. Quindi amplificatori estremamente economici, con streamer incorporati con una coppia di casse economiche, che vedete sul canale abbiamo fatto un abbinamento di meno di 600 Euro che ti permettono una qualità che all'epoca mia di Giulio e di Marco era assolutamente impensabile. A me viene in mente il NAD 3020, che è stato uno dei miei amplificatori di riferimento, che costava, se non mi ricordo male, un milione e mezzo, o il musical fidelity A1 costava un milione e mezzo, che era una cifra enorme per l'epoca. Adesso con meno di 400 Euro si compra un amplificatore con DAC e streamer incorporato, con una qualità di ingresso estremamente alta. Quindi secondo me anche i giovani hanno la possibilità di ascoltare meglio e anche attraverso una sorgente molto, molto orizzontale, che è il computer. Perché chiunque ha un computer o un iPad al quale si può attaccare il cavo e quindi un DAC per cui poter ascoltare, o addirittura col Bluetooth e quindi poter ascoltare molto meglio con delle cifre basse. Il problema vero è sensibilizzare il giovane, perché se è lo stesso giovane che spende 2000 Euro per l'iPhone 15, ne può spendere 1300, 1400 e si compra l'iPhone 14 magari ricondizionato e con il resto dei soldi prende qualcosa per sentire meglio la musica. Ma bisogna farglielo capire. Secondo me la scommessa è prima di tutto questa, perché io vedo poi con le mie figlie, che sono due figlie adolescenti di 17 e 21 anni, alle quali ho sempre dato delle cuffie di alta qualità e adesso se non hanno le cuffie che dicono loro, me le tirano in faccia e hanno bisogno proprio di qualità. Ma ce le ho abituate. È un fatto culturale direi, no? Esatto. E infatti noi però avevamo un vantaggio, che la passione della musica partiva sicuramente dal fatto che comunque eravamo circondati da, parliamo degli anni 60-70, quindi siamo tutti più o meno di quelle generazioni lì dove c'erano tutti più grandi gruppi, c'era tutta la musica più incredibile che ancora oggi, se vogliamo, ascoltiamo, no? E il fatto di avere dal Reader's Digest, per chi se lo ricorda che sicuramente ha almeno più di 50 anni, poi dopo è riportato a dire, ok, andiamo avanti, perché comunque magari al diploma mio padre mi ha regalato il primo giradischi Technics, per dirti, no? E quindi per noi era naturale comunque andare a comprare qualche cosa che ti consentiva di ascoltare la musica in maniera... Poi ovvio, dipendeva anche dalle famiglie, no? Chi poteva, ti regalavano il motorino, magari più avanti la macchina, o chi magari, come me, spendeva tutti i soldi in dischi, poi la musica poi per fortuna mi ha ripagato da questo punto di vista, ma già da ragazzino spendevo la mia paghetta sempre per comprare tutto. Credo che l'i-fi, come hanno già detto perfettamente sia Giulio che Giancarlo, è il modo migliore per poter ascoltare ieri come oggi la musica e riprodurla nel modo forse più vicino a quello che intendevano o intendono tuttora gli artisti, musicisti, produttori e via discorrendo. Purtroppo non molti sanno che cos'è l'i-fi, a parte diciamo noi appassionati, gli audiofili, eccetera, eccetera. Io lo vedo anche con delle persone che vengono a trovarmi a casa mia, che magari amano la musica, ma non hanno uno stereo in casa, al massimo hanno, che ne so, una cassa Bluetooth o ascoltano addirittura della TV. E mi dicono, madonna Marco, come si sente bene la voce di quest'artista. Dico, perché? Eh, dico, perché non hai un impianto hi-fi. Quindi forse bisogna, noi che siamo un po' del settore, scendere un po' dal piedistallo di super appassionati, ma provare a spiegare che ci sono, e devo dire che sia Giancarlo che Giulio con il loro canale stanno facendo un ottimo lavoro, secondo me, di proporre anche dei prodotti che non sono solo quelli da 20, 30, 50 mila euro, ma anche cose che debbono essere alla portata di persone più giovani che comunque magari al primo stipendio, eccetera, possono al loro modo attingere a un prodotto di qualità sicuramente superiore dalla semplice cassettina Bluetooth o dalla soundbar che si trovano in famiglia. Posso aggiungere una cosa? Credo che sarebbe poi molto opportuno spiegare, proprio come divulgazione, il fatto che non è tanto vero che il confronto è tra la musica dal vivo e la musica riprodotta. Cioè c'è sempre questa scusa, se vogliamo, tanto non riuscirai mai a sentire come si sente dal vivo. rispondo io, grazie al cavolo che non... perché stiamo parlando di due cose differenti. Stiamo parlando, come diceva Glenn Gould, di una forma artistica autonoma che è quella della musica registrata e di un sistema di fruizione che è l'altro 50% di quell'equazione che serve ad ascoltarla. La musica dal vivo è un'altra cosa, c'entra direi relativamente poco. È un'esperienza umana. Però è difficile farlo capire. È un'esperienza umana, aggiungo io, io vivendo, diciamo, questa doppia faccia sia della mia vita che del mio lavoro di redazione, cioè quella rivolta al mondo dei fai e quella rivolta al mondo dei musicisti. Dico sempre che il concerto, cioè anche quando parlo magari con qualche gruppo audiofilo, odio gruppi audiofili, non li frequento più, ma insomma con qualcuno che ha la mia stessa... per l'amore del cielo, la mia stessa passione dico sempre no, ma i concerti ci devi andare, non devi cercare di riprodurtelo in casa, ci devi andare perché è un'esperienza umana di andarci con gli amici, di sentire anche di ascolto. È un'altra cosa, è un'altra esperienza umana. Invece quello che tu devi fare a casa è riprodurre nel modo più, chiamalo fedele, chiamalo più bello, mettiamoci il termine di ci pare, l'incisione che è stata fatta, che è quello l'obiettivo, secondo me. Ma se tu non frequenti le sale da concerto, tu non hai neanche il benchmark per poter fare, come dire, questa incisione è buona, questa incisione non è buona, per poter capire di che cosa si sta parlando. Giulio, però tu parli di musica classica in generale, o di jazz, perché in fondo il concerto rock, per esempio, passa sempre attraverso un'amplificazione, un po' come quello che succede a casa. Magari l'orchestra sinfonica l'ascolti senza nessun tipo di filtro. Senti la musica esattamente come viene suonata da un orchestra, da un pianoforte, no? Quindi sono sicuramente due cose un po' diverse, credo. Però, ecco, io ero a un corso di, diciamo, rivolto ai tecnici degli studi di registrazione la settimana scorsa e ho trovato molto interessante il fatto che un setup di una chitarra elettrica nel momento in cui viene registrato in un disco passa comunque attraverso un amplificatore e un microfono che lo riprende. Proprio perché è comunque una, come dire, un'aria che si muove e che poi viene ripresa. Non è il segnale elettrico che esce dalla chitarra che va direttamente nel mixer e va direttamente nella traccia incisa. Quindi, è vero, lì c'è il segnale che non è amplificato, lì c'è il segnale che è amplificato, ma io parto sempre dal livello dell'aria che si muove e sia nel concerto pop, sia nel rock, che nel concerto jazz, che nel concerto sinfonico, comunque c'è l'aria che si muove e questo penso che sia il giusto punto di partenza. Assolutamente, assolutamente. Ora, addentriamoci in una delle prime, diciamo, discussioni un pochino più calde che è il secondo commento che ho detto prima, no? Allora, se io voglio entrare nell'alta fedeltà, cioè, non quanto secondo me devo spendere, perché è chiaro che uno spende il budget che ha, ma come devo spendere, che è la cosa secondo me importante. Io comincerei a fare lo stesso giro da Giulio o da Giancarlo, come volete, e poi arriviamo da Marco, che con Marco tocchiamo anche il punto sui dischi e sulle differenze, diciamo, anche di quel tipo di sorgente là. Però ecco, io ho un budget in mano, cosa faccio? Al di là di consultare ovviamente subito il sito di Audi 2G, immediatamente. Vai Giancarlo. Io risponderei, dipende dal budget, perché chiaramente con dei budget limitati e con la fortuna che c'è adesso, che normalmente la sorgente o è il computer o è lo smartphone, io comprerei un amplificatore piccolo e una coppia di casse bookshelf per stare nell'entry level. e quindi mi accontenterei di quello. Man mano che l'asticella sale, il budget sale, allora entrano in gioco tutta una serie di variabili, non ultima la stanza, perché chiaramente se la stanza è grande e io voglio sentire la musica in un certo modo, mi obbliga ad avere delle casse più grandi, mi obbliga ad avere un amplificatore che le riesce a pilotare e quindi poi una volta scelto questo chiaramente c'è anche l'obbligo poi di sceglierci una sorgente adeguata, anche se, e sono assolutamente d'accordo con la filosofia della Linna, che afferma che la sorgente è la cosa più importante, quindi probabilmente se poi tu amplifichi e diffondi un segnale che dalla sorgente non è sufficientemente buono, non potrai mai ottenere un buon risultato, quindi per me la risposta è dipende dal budget, se il budget è poco è meglio rivolgersi a prodotti economici piccolini, se comincia a essere sempre più grande e poi magari si vuole sentire in atmos, e Marco sa bene che cosa vuol dire, e tutta una serie di altre variabili, chiaramente poi le considerazioni cambiano. Ecco, tu Giulio che ne pensi? Partiamo, sì, scusate se mi... Sì, sì, prego, scusami di tu. È sempre il, che poi è il titolo di questo video, che abbiamo dato a questo sito, cioè l'iFi è solo un gioco per ricchi, punto interrogativo, ovviamente è chiaro che è intuibile che la risposta sia no, ecco quindi appunto si può entrare in questo mondo, certo si fa con il suo entry level, che ovviamente non riguarda niente di che si trova nei centri commerciali, eccetera, bisogna comunque andare, elevarsi un attimo da quel livello là, però ecco, secondo me, penso che secondo voi si può fare, cioè non è solo quello che spesso si legge in giro per diffidenza, no, l'iFi è solo una roba costosa, ti spillano i soldi per poi, eccetera, eccetera. No, volendo... Prego Giulio, rispondi tu, prego. No, allora, io, la mia risposta istintiva, mentre tu formulavi la domanda, era non rivolgetevi ad un audiofilo, nel senso che l'audiofilo vi darà una indicazione che probabilmente, come dicono gli anglosassoni, misleading, cioè ti comincerà a dire che, ma i cavi sono la cosa più importante, allora, è chiaro che sono importanti, sono importantissimi, io non sto dicendo che l'audiofilo dice stupidaggini, sto dicendo che spesso la prospettiva dell'audiofilo, per esperienza, perché tanti anni che fa questo, che frequenta questo mondo, non può essere sovrapponibile a quella del tizio appassionato di musica che si vuole comprare il primo impianto, che probabilmente sarà anche l'ultimo, cioè se ne compra uno, è felice e basta, e poi non ci pensa più, insomma, per molti l'acquisto dell'impianto è come l'acquisto della lavatrice, tu non ti compie una lavatrice perché hai il desiderio di avere la lavatrice nuova, ti serve lavare le mutande e i calzini, punto, quello ti serve per ascoltare la musica, allora se tu gli vai a presentare una persona che gli fa la poesia del cavo, la poesia della presa di corrente, probabilmente quello dice siete pazzi, e allora vengono fuori questi commenti sprezzanti, fastidiosissimi, l'alta fedeltà è roba per ricchi, però è anche vero che ce la siamo costruita negli anni, con la nostra narrazione sbagliata, questa fama di spendaccioni anche un po' scemi. Prima abbiamo fatto anche quella battuta, cioè ci siamo capiti sui gruppi audiofili, purtroppo io stesso che sono appassionato, penso anche voi, non lo so, mi sono dovuto tirar via dal 99% dei gruppi, perché purtroppo ancora, quando si arriva ad essere a un livello, diciamo, neanche troppo estremo di questa passione, purtroppo è molto difficile convivere con razionalità, insieme a persone che ne hanno un po' una per tutti, e se io la vivo così, immagino chi è assolutamente al di fuori di questo mondo, arriva e viene spaventato a morte di questi pazzi. Allora, lì ci vuole lo psichiatra per alcuni leggendo i gruppi. Tra l'altro, Marco, e mi ricordo a te, perché non molto tempo fa ho risposto anch'io con un commento, sotto proprio un tuo post di Facebook, dove tu hai fotografato il tuo impianto principale, che è un impianto ovviamente, insomma, di un grande livello e di grande costo, ovviamente, e qualcuno ti aveva scritto, eh però, solo pochi se lo possono permettere, avevo scritto, sì, però non è che uno, cioè, uno sì, se è ricco va al negozio e si compra tutto, ma non è che uno, Marco, io o chiunque, ha iniziato così. Piano piano, come in tutte le passioni, come in tutte le cose, si comincia da uno, poi si fa un upgrade, poi si sostituisce, negli anni, magari uno ci ha messo vent'anni a farsi per l'impianto, se è comprato la macchina più bella, se n'è comprata o non se n'è comprata, però c'è, c'è tante dinamiche che uno pensa. Poi, guarda, Salvatore, Giancarlo lavora da tantissimi anni in un'azienda molto importante di distribuzione dell'i-fi e noi, io stesso, grazie anche a lui, a molti eventi che sono stati fatti, abbiamo conosciuto persone che spendono centinaia di migliaia di euro, anche per un singolo apparecchio, per un semplicemente una coppia di casse. Allora, quello è un mondo a parte, credo che sia una nicchia, della nicchia che comunque, è come il mondo del lusso, come quelli che si portano, si comprano la borsetta di Gucci, o un prodotto di altissimo livello, una macchina, che ne so, qualsiasi cosa, è un mercato che esiste, insomma, però c'è anche il mondo, cioè, poi è ovvio che noi, lavorando nella musica, essendo appassionati, e lavorando anche un po' nel mondo dell'i-fi, io, in piccolo, magari abbiamo anche i nostri modalità di scelta e siamo privilegiati. Però la tua domanda, secondo me, mi permetto anche io di rispondere su come scegliere l'impianto, secondo me, dobbiamo cercare di far avvicinare non solo i giovani al mondo dell'i-fi, ma anche riavvicinare per esempio ai negozi, perché io credo che tantissime cose già partite dalla musica, tanta della musica che io ho comprato nella mia vita, l'ho scoperta spesso e volentieri col commesso del negozio che mi consigliava qualche cosa. Ma la stessa cosa avviene, credo, sulle indicazioni che oggi abbiamo i gruppi, abbiamo su YouTube, loro fanno il canale dove spiegano le cose, però le robe le devi ascoltare, devi andare in un punto vendita e credo che la cosa migliosa sia sempre quella di andare lì e dire senti, questo è il mio disco preferito, mi fai sentire le casse GBL? Che ne so, o quel tal amplificatore o quelle cuffie o quelle cose lì. Io non so, Giancarlo, oggi i negozianti lo fanno ancora questo servizio? Ma diciamo che i negozianti quasi sempre sono sempre più dei movie boxer e sempre meno delle persone competenti. Tra l'altro il fenomeno che già da molti anni sta succedendo e Giulio è uno dei massimi esperti, cioè quella che si chiama musica liquida, musica immateriale, musica e che prevede delle competenze informatiche minime, io mi accorgo interfacciandomi con i negozianti che non sanno neanche che cosa fa un router. Quindi diciamo oramai mentre prima l'i-fi era anche uno status simbolo e quindi entravi nel negozio e compravi e il negoziante più di tanto non doveva fare, adesso si richiede un negoziante molto più esperto, molto più in grado di seguirti e ce ne sono sempre di meno. Io sinceramente che ne conosco tantissimi in Italia di negozianti, negozianti davvero professionali neanche, cioè una mano è molto più che sufficiente per indicarli tutti. Quindi anche perché in moltissimi negozi purtroppo c'è solo l'acquisto dello sconto quindi del prezzo più basso e poi la configurazione e poi la scelta quasi dell'apparecchio viene fatta dal cliente quindi il cliente non è il negoziante non è più quella persona in grado di consigliare ma è semplicemente una persona che prende il minor margine possibile pur di vendere e questo ovviamente non aiuta. E' un centro commerciale allora vado a comprare un amplificatore in un grande media shopping non so ed è poi il motivo per cui sul nostro canale spesso e volentieri c'è la domanda ma spesso e volentieri significa almeno tre volte al giorno è meglio l'amplificatore A o l'amplificatore B ho queste casse quale amplificatore ci devo mettere è che la risposta giusta sarebbe quello che piace a te vatteli a sentire ma non perché non ti voglio dare una risposta perché è giusto che tu scegli in un mercato che ti fa tante proposte quel suono quell'ideale sonico quell'ideale estetico di suono che ti si confà solo che poi poveracce queste persone dove li vanno a sentire questi apparecchi mi rendo conto che è molto diverso rispetto a quando noi abbiamo cominciato forse forse c'erano anche meno brand perché mi ricordo c'erano quelli della scuola della GBL quelli che avevano le AR per esempio e le SB piuttosto che altri pochi brand diciamo così ed erano tutti comunque avevano proprio una caratteristica sonora e quindi tu ascoltavi il rock allora i GBL erano magari la cosa più figa che c'era in quel momento ascoltavi la musica classica e avevi le AR e via discorrendo quindi non penso che oggi ci sono talmente tanti brand è diventato veramente complesso poi scegliere quindi a parte i marchi classici che alcuni ancora esistono e fanno ancora dei grandi prodotti poi dopo tu che fai ti vai a comprare e io l'ho visto anche con la a mie spese magari dei marchi stranissimi che fanno anche degli ottimi prodotti che però poi un giorno che li vuoi cambiare non riesci a venderli perché il loro valore scende terribilmente magari invece un marchio più famoso ancora oggi tipo Macintosh io ho rivenduto un amplificatore che magari ti può piacere o non piacere però è una specie di assegno circolare voglio dire quindi anche la scelta per chi vuole poi crescere magari di comprare dei marchi che comunque nel tempo possano durare a livello di vendibilità ecco non so se siete d'accordo su questa filosofia è un po' triste perché poi la selezione la fai non in base alle caratteristiche soniche dell'apparecchio ma alla sua rivendibilità che francamente la trovo veramente squallida come prospettiva però è vero il problema c'è e tra l'altro quello che dice Marco è interessante per un altro tipo di considerazione cioè mentre negli anni 70 e 80 per esempio le casse si progettavano con ne parlavamo qualche giorno fa con Giulio con il Dickinson che era un manuale di progettazione delle casse che ti diceva fai la cassa molto più grande e comprati i sacchetti di sabbia ce li metti dentro per diminuire o aumentare il volume si faceva così e quindi il progettista aveva un suo ideale sonoro e quindi tu compravi la GBL perché sapevi che era in un modo la R perché sapevi che era in un altro adesso grazie ai software di modellazione si riesce ad avere una qualità media elevatissima e quindi soprattutto nell'entry level se da una parte hai comunque una qualità media molto alta dall'altra hai un relativo appiattimento delle prestazioni perché suonano bene ma suonano un po' tutte uguali quindi non è più il sound GBL o il sound AR o il sound ESB la famosissima ESB100LD che faceva a gara con la GBL L100 e quindi insomma c'è anche questo che però ha il suo secondo me enorme vantaggio che è quello di poter comprare una coppia di diffusori Bookshelf da 350 euro che suonano benissimo con Giulio tra poco la troverete sul canale abbiamo fatto la prova di una coppia di Indiana Line da pavimento che costano meno di 1000 euro e sinceramente siamo rimasti a bocca aperta quindi allora in molti casi il brand anche questi brand audio file così come il mondo del lusso ti fanno pagare un marchio fondamentalmente questo è vero in tutti i casi no questo è vero solo nella gamma bassa perché poi quando spendi è chiaro che poi ognuno ha la sua forte caratterizzazione sonora io sto parlando di brand entry level Giulio tu sei d'accordo con me no? allora io in tanti anni di frequentazione di questo mondo lo dico spesso mi sono convinto che contrariamente a quello che pensa la gente non è un mondo di gente che sta qui per fregare il prossimo e per tirare le sole come si dice da queste parti ci sono progettisti che perseguono un loro ideale perseguono pervicacemente una loro strada tecnologica e sonica e non guardano in faccia a nessuno e propongono oggetti anche terribilmente costosi questo è ma nessuno ripeto nessuno che io ho incontrato lo fa con l'intento predatorio di sfilare soldi al prossimo quindi il discorso è quando tu accedi alle fasce superiori quelle che con un nome orrendo vengono chiamate high end non ottieni un brand ottieni un suono che è molto differente il problema qual è? che tu devi avere una sensibilità un allenamento che ti permetta di coglierlo questo suono io faccio sempre il paragone col vino io non amo particolarmente bere non sono un intenditore di vino se mi dai un vino economico o un vino iper costoso non sono in grado di percepirlo quindi posso anche scandalizzarmi e dire quanto costa caro ma non lo dico perché rispetto chi ama e chi produce un vino molto costoso perché mi immagino che ti stia dando qualche cosa di molto differente quindi ecco il mio invito è sempre no? ah maledetti quanto costa caro è calma perché quella cosa che costa così cara ha dietro un contenuto un ideale una ricerca uno sviluppo che ha portato ad un prodotto ma non è banalmente qualcuno che tenta di rubare soldi ma oltretutto io penso sempre che diciamo facciamo sempre questa diciamo questa cosa del mercato di lusso della nicchia è tutto giusto però attenzione cioè si vendono molte più borse di gucci molte più rolex molte più cose di un paio di casse da 50.000 euro però lì nessuno si scandalizza non è che se ne vendano così tante l'anno di ste casse o di ste amplificatori da 60.000 non quanti orologi da 20.000 però la cosa che io chiedo la cosa che io chiedo è sempre ma perché nessuno si scandalizza della borsa di gucci e tutti si scandalizzano dell'amplificatore costoso è strano cioè è come se ci fosse una sorta di idea per cui è diritto di tutti accedere all'i-end mentre invece è tollerabile che alla Porsche ci accetta chi ha i soldi per comprarsela non lo capisco sai Giulio mi fa venire in mente una cosa buffa di un mio carissimo amico che racconta a sua moglie che gli amplificatori le casse che c'ha a casa costano un decimo di quello che sia poi il costo vero no? è tipico e dice ma che hai cambiato quello il coso lì colorato che cos'è? dice ah qua è un cavo magari ha comprato un cavo da 2500 euro e dice no l'ho pagato 200 euro capito e via discorrendo oppure gli amplificatori da 10.000 che gli ha detto che costano 500 insomma perché non sa valutare qual è effettivamente il costo specifico di un prodotto quindi è ovvio che non è di mia competenza è chiaro che tu vedi un orologio di grande marca le abbiamo anche citate a volte possono essere anche delle patacche ma spesso e volentieri le persone li comprano non perché sono super precisi Giancarlo tra l'altro è un grande esperto di orologi sa benissimo che magari il famoso Rolex è un orologio che ha un successo incredibile ma magari ci sono orologi che hanno meccanismi molto più sofisticati molto più affascinanti orologi anche molto più belli che costano anche meno per cui lì è una questione di scelta e spesso il mercato e credo che anche un po' nell'i-fi come i v-meter azzurri hanno sempre quel fascino da sempre magari ecco il valore non è esattamente lo stesso magari di un prodotto che costa uguale magari di un brand assolutamente sconosciuto ma che invece la sostanza è ben diversa e quindi credo che noi siamo abbastanza abituati però abbiamo la fortuna di saper scegliere in base ad altri criteri il pubblico magari fa un po' più fatica posso fare un escursus di un minuto sugli orologi proprio perché è un paragone giusto non so se si vede porto un Zenith e il primero ok c'è un Rolex Daytona famoso perché ha la meccanica e il primero questa meccanica ha una particolarità che va a 33.600 alternanze quindi vuol dire che è più preciso degli altri siccome all'epoca in cui la Rolex realizzò il Daytona con la meccanica e il primero non aveva una meccanica cronometrica la chiese alla Zenith la Zenith gli diede la meccanica cronometrica ma non gliela diede che andava a 33.600 ma a 28.800 quindi più lente per cui il Daytona e il primero che adesso vale centinaia di migliaia di euro perché è Zenith alla fine è un orologio molto meno preciso e pregiato dal punto di vista meccanico di quanto non sia questo Zenith ma questo Zenith vale cento volte di meno quindi per dire che poi dietro a ogni cosa ai fai compresa c'è una storia di persone non è semplicemente una storia di marketing o è una storia di affare o di quanto vale sul mercato dell'usato ma quante persone hanno messo un ingegno per riuscire a fare un prodotto diverso dagli altri e mi ricollego se mi date ancora un attimo al discorso dell'i-end perché l'i-end o comunque i prodotti più cari hanno un altro tipo di particolarità per cui costano tanto che hanno un'economia di scala assolutamente senza senso inesistente perché vengono fatti pochissimi pezzi e quindi chiaramente quei pochissimi pezzi hanno un prezzo elevatissimo proprio per questo motivo noi abbiamo un carissimo amico con uno scarto anche notevole perché se non è tutto perfetto noi abbiamo un carissimo amico che si chiama Fulvio Chiappetta SI Audio che credo sia il più grande ingegnere vivente probabilmente al mondo adesso si è inventato un sistema per cambiare le valvole è uno estremamente bravo che ovviamente fa pagare tanto i suoi prodotti perché ha una capacità produttiva molto molto bassa e quindi chiaramente il prodotto costa di più semplicemente perché ne riesci a fare se tutto va bene 10 al mese e non 1000 o 10.000 ok allora torniamo diciamo nel nel mondo dei delle persone a budget a budget normale non dei napab come qualcuno potrebbe dire e per introdurre poi quella che diciamo forse è stata poi la grande variante tra l'i-fi di ieri e di oggi ce ne sarebbero mille da dire anche su certe accoppiate nate di marchi nate per un motivo o per un altro a volte per motivi reali sonori a volte di distribuzione eccetera però diciamo che quello che poi ha fatto la differenza secondo me negli ultimi anni è anche consentito poi di avere dei prodotti più notevoli a basso budget è chiaramente volente o nolente l'ingresso della Cina fondamentalmente l'ingresso della Cina di un tipo di produzione che chiaramente all'inizio quando diciamo produceva roba discutibile adesso il vento è decisamente cambiato perché si trovano prodotti a basso budget ben suonanti per quello insomma che è la qualità prezzo che una volta si sognava e che quindi adesso danno ancora più modo di accedere a questo mondo anche senza poi aspettarsi un domani né di spendere quali cifre eccetera però per almeno assaggiare come si dice assaggiare un po' quella che è la differenza perché poi finché certe cose non si portano a casa propria e ci si vive un po' non si può capire poi la vera differenza quindi chiedo a voi ecco questo questo grande questo grande cambiamento nel mondo è stato un bene è stato un male oggi ci siamo un po' ricreduti prima ovviamente era visto al 99% come un male come è adesso la situazione ma allora io devo dire che a me questa polemica non mi ha mai tanto appassionato banalmente perché mi interessa l'aspetto qualitativo quindi fin tanto che come tu hai detto giustamente ci sono stati pessimi prodotti economici sicuramente ma pessimi prodotti che hanno invaso il nostro mercato e il mio atteggiamento non poteva altro che essere negativo in quanto si trattava di apparecchi pessimi mal realizzati spesso mal suonanti con brand che duravano qualche mese e poi sparivano perché non esistevano più perché smettevano di essere importati e poi è chiaro che nel tempo e conoscendo anche un po' il lato di chi produce e che andava a produrre in Cina qualche storia l'ho sentita raccontare e come dire c'è stata un'evoluzione oggi ci sono degli apparecchi che vengono prodotti in Cina io non mi scandalizzo per niente voglio dire questi diffusori dei quali parlavamo poc'anzi con Giancarlo cioè le Indiana Line vengono realizzate in Cina sono dei prodotti realizzati in maniera ineccepibile a me utente interessa la qualità del prodotto per me le possono fare anche su Marte non me ne può fregare di meno chi le fa prescindo completamente da questo tipo di considerazioni prendiamo ad esempio le amplificazioni della WIM io le trovo rivoluzionarie trovo che siano degli oggetti fantastici che sono realizzabili soltanto sfruttando un'economia di scala che lì è possibile fare da noi sarebbe impossibile ma quelli sì che sono prodotti che mettono nella condizione tantissime persone di avvicinarsi a questo mondo sono fatti in Cina non lo so questo attiene alla geopolitica e francamente faccio un passo indietro per me è dal punto di vista del divulgatore di audio un bene che questi prodotti esistano poi tutti sono fatti in Cina ormai anche grandi brand fanno in Cina sono delle eccellenze anche di amplificatori o altre cose che costano tanti soldi e sono fatte dichiaratamente in Cina senza nessuna vergogna ecco sì ma io mi ricollego al discorso che Giulio ha fatto delle Porsche dico ma l'iPhone è fatto in Cina perché nessuno dice niente e se invece un amplificatore bello è fatto in Cina non va bene perché è fatto in Cina giusto no perché assolutamente cioè la fabbrica Apple è in Cina non è che è da un'altra parte poi è la loro perché adesso India come scusa adesso sempre più India e sempre la Cina vabbè è un discorso di politica internazionale assolutamente sì assolutamente sì e Marco prima ci siamo dimenticati ma lo recupero adesso sempre sul discorso di costi eccetera dell'iFi c'è quello ovviamente delle sorgenti chiaramente la musica liquida non ha oramai un costo cioè se uno poi vuole comprare i file in alta definizione chiaramente hanno il loro costo eccetera eccetera però quello è già un passo che secondo me uno che è novizio uno che dentro del mondo iFi non ci arriverà subito sicuramente arriverà prima allo streaming che è in abbonamento e quindi non ne pagliamo parliamo invece dei formati fisici che l'altro giorno per l'ennesima volta mi sono trovato di fronte a un post mi sembra fosse della Blue Note di un nuovo Tom Poet ma non mi ricordo qual era e sotto uno che diceva io ho 40 euro per un disco non mi avrete mai no? e che io penso cosa gli vuoi rispondere gli vuoi rispondere niente perché non non puoi insegnare i pesci a volare si dice ma no nel senso se tu non ti rendi conto a parte delle condizioni economiche in generale perché per fare dei prodotti che ci sono e se poi non ti rendi conto che comunque di cosa compri non puoi deciderlo tu il prezzo ecco tutto questo per dire cosa che la sorgente è importante che due dischi non sono uguali e perché si comprano i dischi e costano tanto e io dico e poi passo la parola a te io provisco a comprare un disco come quello come questo che ora ce l'avevo in mano lo vediamo nel backstage questo LA Woman dei Doors edizione Analog Production che costa 80 euro perché doppio vinile 45 RPM bla 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 fatto dai master analogici eccetera eccetera che comprarmi tre dischi di cui però non so provenienza ma soprattutto non so chi ci ha lavorato prima di tutto è la prima cosa che voglio sapere quindi Marco ti passo la parola su questo che tu sei ancora più esperto ma guarda io ho imparato tante cose anche da questi due signori che stanno io li vedo sotto nelle due finestre io mi ricordo in particolare quando c'è stato il periodo in cui ero andato in trip con la musica liquida in realtà era la musica riprodotta da file col computer collegato all'amplificatore eccetera e con il super audio cd io arrivo dal disco dal vinile come grandi noi però Giancarlo un giorno mi disse se tu ti compri il giardischi giusto con la testina giusta tu poi li butti via i super audio cd questo era vero in parte nel senso che ancora oggi secondo me quel tipo di esperienza sonora rimane straordinaria però effettivamente alcune emozioni alcune cose che senti solo oggi veramente quando finalmente ristampano i dischi in vinile con una qualità strepitosa che però purtroppo costa e questo va un po' ad agganciarsi nelle famose questioni che avete sollevato poco fa Giancarlo diceva le sorgenti costano tanto lo dice la Linda sempre quindi è ovvio che se tu hai un buon giradischi una buona testina e hai un disco eccellente stampato perfettamente sentirei molto meglio rispetto alla stessa la stessa musica però riprodotta da un giradischi di bassa qualità una testina di bassa qualità e un disco magari di stampa normale io ti faccio vedere delle stampe che abbiamo fatto vedere mille volte questo per esempio è un ultra high quality recordings di Miles Davis che è da tutti riconosciuto come uno dei dischi non solo più belli della storia della musica ma anche come è stato rimasterizzato e ristampato che costano però 250 euro ammesso che lo trovi ancora oggi questo è appena uscito per esempio ed è una delle registrazioni Marco deciso che stiamo parlando proprio del livello massimo se no pensano che noi compriamo tutti i dischi da 250 adesso infatti ci arrivo anche questo qui è un altro disco di questi numerati stampati 45 giri vinile trasparente bla 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 con costo altro quello ce l'ho anch'io e posso confermare ma questo non rientra nella polemica dei formati fisici contro Libida qualcosa che mi mi tocca veramente pochissimo e mi interessa ancora meno però posso assicurare conoscendo quel disco avendolo anch'io in quell'edizione là da un mesetto e avendolo ascoltato in qualsiasi salsa veramente quel disco in qualsiasi salsa a qualsiasi definizione come io l'ho sentito suonare quello non ho mai sentito nient'altro nient'altro qualsiasi altra definizione volete ma non è perché non vinile perché ci hanno lavorato meglio che ti devo dire è ovvio però poi alla fine te lo fanno pagare come se fossero 5-6 LP ok la questione che è quale che oggi forse questo magari potete rispondere voi anche sul discorso che è di non so se c'è una speculazione anche sul mondo dell'i-fi per cui magari determinate cose oggi costano molto di più rispetto a quanto le potevi pagare non so 10-15 anni fa io vedo che sui vinili le case discografiche sostengono che c'è un costo enorme di produzione dei materiali di produzione per cui se un vinile che ne so 2-3 anni fa prima del covid lo pagavi 20 euro adesso non si sa perché costa 35 quindi stiamo parlando di aumenti notevoli e così chiaramente anche questi prodotti di altissima gamma ovviamente costano molto di più ai nostri tempi compravamo l'original master recording che costava non so 35.000 lire che era una cifra elevata oggi lo stesso original master recording fatto dalla Mofi magari ne costa 150 quindi ovviamente stiamo parlando di costi esageratamente superiori esattamente esatto quindi ovviamente che sono dischi che oggi anche da collezione hanno delle cifre molto elevate quindi probabilmente anzi finisco il discorso e lascio la parola a Giulio io sono andato a guardarmi perché avevo letto un post appunto di questi pazzi sui social di cui sicuramente fra poco parleremo in cui si lamentavano proprio di questi costi esagerati di qualsiasi cosa del mondo wifi io sono andato a guardare per esempio gli annuari di suono di stereo play per esempio gli anni 80 o primissimi anni 80 e andavo a guardare c'erano dei giradischi che costavano 20-30 milioni c'erano anche amplificatori casse che costavano tantissimo quindi voglio dire io credo che il mondo dell'i-fi è sempre stato suddiviso come per le supercar come per tutto ciò che riguarda prodotti di altissima gamma ci sono quelli alla portata di tutti popolari ci sono quelli di fascia media quelli di fascia alta e quelli un po' irraggiungibili io credo che questo non sia cambiato ricorreggetemi se sbaglio i dischi e poi scusa passo la parola i dischi non sono mai costati poco io mi ricordo il primo dischio che ho comprato a ragazzino ho ammucchiato le paghette erano alte così le cassette costavano 24.000 lire le cassette quindi non mi venissero a dire che prima questo poi in Italia era cara ecco diciamo un paio di considerazioni relativamente al vinile numero uno per qualche motivo diciamo comunque relazionato a una sorta di battagio pubblicitario che dura ormai da tantissimi anni su tantissima stampa è invalsa un po' la credenza popolare che quello figo quello colto quello che la sallunga ascolta il vinile il fatto è che poi non viene spiegato tutto il discorso allora se tu vuoi ascoltare il vinile se tu vuoi sfruttare la magia di quelle meraviglie che voi avevate tra le mani tu devi avere un giradischi adeguato cioè il giradischi da 100 euro che compri al mercatone non ti fa sentire la meraviglia di quelle registrazioni io è questo quello che contesto quanto sono figo perché ascolto il vinile tu sei un povero sfigato che ascolti il bluetooth che giradischi hai ho il giradischi da 50 euro oppure ho il giradischi di mio padre che è stato in soffitta negli ultimi 25 anni ed era un catenaccio 25 anni fa adesso è un catenaccio che ha 25 anni sulle spalle allora le cose secondo me vanno dette tutte cioè quei dischi che voi avete fatto vedere chiamano quelli sì un impianto importante un giradischi importante che sia poi seguito da una catena di riproduzione importante se non ce l'hai servono a niente servono a niente e allora forse è meglio lo streaming aggiungo assolutamente sì io aggiungo una grande esperienza anche perché l'IPA le regolazioni bastano minimi movimenti in cui si scombina qualsiasi cosa e l'esperienza conta tantissimo sul giradischi tant'è che quando uno mi chiede poi passo la parola a Giancarlo quando uno mi chiede come faccio ad entrare nel mondo del vinile quasi quasi mi viene voglia non di scoraggiarlo ma gli dico prima stai attento a tutto se no ascoltati lo streaming perché se no passi un anno di bestemmie superato quello poi c'è un'altra cosa cioè noi da ragazzini abbiamo con le paghette collezionato insomma io la mia esperienza è io qui in casa ho un migliaio di LP io il giradischi l'ho quasi tolto cioè io il giradischi importante me lo sono dato via ho un giradischi meno importante che sta in sala 2 perché? perché ritengo che 1000 LP non di qualità eccezionale non giustificano un giradischi importante per me il gioco oggi è il gioco del confronto delle interpretazioni lo faccio con lo streaming ho speso tanto tempo e tanti soldi per arrivare ad un setup che mi faccia fruire la musica in streaming per bene e sono contento così sono d'accordo anche io se posso dire una cosa lo streaming perdi la fisicità e perdi anche un po' questo disco che gira e tutto quel romanticismo che è collegato sopra ma che io e Giulio oramai diciamo abbiamo superato io anche praticamente il giradischi non ce l'ho più lo streaming cosa offre di diverso perché adesso con tutte le piattaforme che ci sono abbiamo a disposizione tutta la musica che c'è sulla faccia della terra il problema è saperci navigare quindi è saper conoscere artisti nuovi simili a quelli che ascoltiamo e in questo per esempio c'è una piattaforma che si chiama RUN che io e Giulio siamo cioè della quale io e Giulio siamo molto innamorati e affascinati non tanto e non solo per la qualità di riproduzione ma per la capacità che ha di proporti degli artisti simili ai tuoi gusti ma che non conosci quindi l'ascolto in streaming diventa un viaggio ed è la stessa cosa che mi ha detto il nostro amico Daniel Orea che da un paio d'anni a RUN perché gliel'ho imposto e lui mi ha detto guarda io ogni volta che sto a casa e comincio a sentire la musica con RUN per me comincia un viaggio perché io conosco tante cose simili ai miei gusti ma che non conoscevo prima e questa è un po' forse la scommessa per cui abbiamo perso la fisicità il fascino il romanticismo del supporto fisico ma abbiamo acquisito qualcosa di molto importante che è per noi tutti che siamo forse più musicofili che appassionati di hi-fi e tecnica lo strumento per arricchire la nostra la nostra conoscenza insomma faccio faccio un esempio io adesso prima di cominciare stavo ascoltando un su Cobus evidentemente una registrazione uscita recentemente di Leonidas Cavacos Bach concerti per violino per violino RUN di del primo della prima traccia mi propone 22 diverse interpretazioni allora per me oggi il gioco culturale è andarmi a sentire quelle 22 interpretazioni come la sensibilità degli artisti nel corso degli anni ha come dire mutato questa interpretazione le sensibilità diverse il sentire diverso per me quello è il gioco che oggi mi interessa fare però sono questioni differenti magari ecco ci può essere invece il gioco ad esempio Marco dell'amore nei confronti dell'oggetto vinile che orgogliosamente prima maneggiava sono differenti approcci tutto lì giusto beh anche una questione di collezionismo se vuoi io ho anche amici che hanno collezionato per anni anche prodotti ai fai che non se ne disfano io pure ho tanti apparecchi che non uso più che sono quelli che ho comprato magari 15-20 anni fa e che conservo perché mi piace averli poi probabilmente potrei anche rivendermi magari non valgono niente oggi perché magari 20 anni fa avevano un valore oggi non ce l'hanno più sicuramente il vinile ma anche cofanetti cose tirature limitate numerate eccetera diventa un po' un feticcio per ognuno di noi e quindi credo è cioè la passione è anche questo è anche un po' di follia se no che noia io la vivo da chitarrista cioè allora qualunque chitarrista c'ha più di una chitarra in casa ma te ne serve più di una per suonare no basterebbe una bella però è passione non è se devo limitarmi o ragionare come un ragioniere ecco appunto quello che mette i timbri alle poste magari lo faccio in altri ambiti della vita quando devo pagare le bollette non quando devo sviluppare una passione lì mi lascio andare e se ho bisogno se voglio io poi ho tutte e due le cose cioè io ascolto i streaming tantissimo e sono innamorato ovviamente del mondo dei vinili e non diciamo per i motivi soliti quando sento ecco come diceva Giulio quelli che hanno il giradischi un po' economico e mi vengono a dire però il fascio del vinile lo scricchio lì io gli dico sempre il vinile non scricchiola santo Dio non deve scricchiola è un vinile usurato è un vinile brutto capito quindi è un po' questo vivere la passione con il giusto grado di foglia perché è una passione e però farlo senza senza denigrare perché limitarci ecco perché limitarci io dico senti Salvatore io mi permetto vorrei fare io una domanda ai due audio 2G perché a parte che seguo sempre il canale mi diverte molto conoscendoli poi personalmente poi mi piace anche perché ovviamente scopro delle cose anche di apparecchi che peraltro ho in casa e quindi mi sono sempre trovato molto in linea però poi dopo quando vado a guardare tu l'hai scritto anche nei vari punti che dovevamo discutere in questa chiacchierata tra di noi il fatto di quello che avviene sui social mi riferisco soprattutto a Facebook dove ci sono tutti questi gruppi di Hi-Fi e io ho notato che soprattutto il gruppo degli italiani cioè io leggo delle cose veramente assurde ma proprio di frustrazione in generale ma anche sembrano che sono tutti professori di fisica matematica fisica applicata non so acustica oltre a tutti i professori di musica e poi veramente io non so voi come vi approcciate con le cose che dite nel canale in base anche a quello che è il come dire quello che vi scrivono poi immagino tu quelli che chiami i followers ok i followers cioè c'è da diventare matti immagino no a volte mi sento anche ben incavolati tra l'altro Giulio posso rispondere prima io sì 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 forse è meglio forse è meglio Giulio se la prende tantissimo ma lui ha ragione no io ho avuto un po' più a che fare col pubblico forse e quindi oramai sono talmente abituato che che me li faccio passare da un orecchio all'altro senza perché poi con l'impegno che uno ci mette quello che vuol dire un canale youtube poi ci rimani anche un po' ferito se qualcuno ti dà una risposta stramba però poi penso e per esempio questi gruppi facebook sono una grande sorgente di queste cose a questi personaggi quando ce li hai davanti e gli cominci a chiedere sì ma tu che hai costruito l'apparecchio migliore del mondo e che sei il più bravo che c'è con cosa lo hai ascoltato perché no io che sono stato tante volte nel centro di ricerca e sviluppo della Bowers per esempio loro hanno una sala d'ascolto con un impianto di livello assoluto con la quale sentono la serie 700 e 800 nuova perché poi chiaramente tu devi avere un punto di riferimento molto elevato per dire io ho fatto la cosa migliore sulla faccia della terra e quando gli fai queste domande loro ti rispondono che hanno il lettore di cd il Marans cd63se che c'ha 20 anni ma modificato che hanno l'amplificatore che però ci hanno messo i condensatori quindi ti danno tutta una serie di risposte che ti fanno capire che poi sono persone che di fatto non hanno proprio idea di quello che non tanto di quello che fanno perché lo fanno ma proprio del punto di riferimento e di come si lavora perché si lavora con un riferimento si lavora con delle con delle prospettive scientifiche rispetto a quello che fai loro sono degli autocostruttori che credono di saper fare chissà che se vedete sul canale io mi sono costruito un amplificatore in classe A perché mi andava di farlo ma lo so che è un amplificatore costruito da uno che non lo fa tutti i giorni e che quindi ha degli enormi limiti nonostante io poi avessi a disposizione un'apparecchiatura magari di riferimento migliore della loro e quindi alla fine penso che per loro sia una passione e che gli faccia anche bene dire che fa tutto schifo e solo la roba loro è buona e quindi faccio finta di niente Giulio invece se la prende di più vero Giulio? molto no ma guarda mi limito a dire una cosa cioè a me basterebbe che queste osservazioni per quanti idiote possano essere venissero espresse A in italiano scritto normalmente con la punteggiatura con A con l'H senza H gli apostoli gli accenti quella roba là insomma quella che insegnavano alle scuole elementari e alle scuole medie e con un po' di buona educazione purtroppo manca la buona educazione e manca l'italiano e per me già sono due prerequisiti fondamentali poi sulla competenza tecnica non c'entro nemmeno ci sta che qualcuno possa dire delle castronerie per carità di Dio però se dici una castroneria con umiltà va benissimo nessuno ti dice niente se la dici con tono arrogante con la spocchia dici delle cose senza senso o piuttosto ripeti a pappagallo delle cose che hai letto malamente chissà quando da un altro come te è deprimente però secondo me dovete andare avanti a farlo perché secondo me è molto interessante e credo che stia anche piacendo vedo insomma che avete tante tante gente dall'altra poi nessuno ne parla poi ci stanno pure quelli che magari ti scrivono tutte le settimane e ti dicono grazie e a me mi sapre il cuore ma non perché mi voglio sentire dire bravo però grazie è una parola fantastica oggigiorno porca miseria la gratitudine è una delle cose che manca di più esatto va bene allora io direi che mi avvierei verso la fine che è un'oretta che parliamo faccio l'ultima domanda secca a ognuno di voi e cioè cosa vi aspettate quando ascoltate la musica un impianto audio di qualunque livello sia di basso sia di medio sia di alto livello chiaramente con delle aspettative diverse se un impianto costa centomila e uno ne costa mille però qual è la caratteristica che vi fa drizzare il sopracciglio quello che voi proprio volete per prima cosa che ci sia Giulio parti tu ah per me è semplicissimo è semplicissimo c'è un aspetto di emozione poi l'analisi del perché mi sono emozionato è difficile e arriva dopo un quarto d'ora mezz'ora talvolta un'ora però c'è il sistema il componente che svolge il compitino e per carità lo svolge anche bene uno lo recensisce dice quello che fa quello che non fa va bene poi c'è raramente il componente che tu dici magia ecco io quello vado cercando se tocca a me è esattamente la stessa cosa cioè si tente subito poi ci sono pochi apparecchi nella mia carriera che collegati mi hanno mi hanno conquistato per sempre e lì lì è magia poi è chiaro che non tutti sono così quando un qualcosa un apparecchio ti emoziona allora ha già fatto il suo compito ti emoziona e ti fa dimenticare della riproduzione ti fa un po' concentrare sulla musica quello poi deve fare un'impianto chi se ne importa quanto costa e non è detto esatto non è un fatto di costo questa idea è trasversale non è detto che un impianto costoso per forza di cose ti debba emozionare anzi ci sono impianti molto costosi che diventano talmente chirurgici e talmente noiosi noiosi che io non le riesco a ascoltare ecco queste casse che abbiamo che abbiamo recentito con Giulio mi hanno colpito moltissimo perché avevano un senso del ritmo che mi che mi ha preso proprio ecco quella quelle mi hanno mi hanno emozionato quindi per me è l'emozione tutto qua Marco sta a te o al gatto come vuoi Gustavo che è un grande ascoltatore di musica ma è ovvio che l'emozione anche per me rimane sempre comunque il primo approccio che io ho quando devo ascoltare della musica io lavorando anche come esperto di musica lavorando alla radio eccetera ho un approccio forse a volte più emozionale perché devo sempre andare a toccare le corde della così di quel tipo di emozione di magia che però ovviamente i costruttori ma anche con operatori come loro del mondo i fi devono cercare di suscitare nelle persone comuni e quindi questo credo che sia anche come dire un percorso che tutti noi che lavoriamo in questo settore te compreso Salvatore che comunque fai divulgazione a vari livelli nel mondo della musica dobbiamo sempre perseguire sicuramente per rispondere poi in maniera concreta alla domanda la cosa che mi piace molto ascoltando uno dei vari impianti che ho è quello di rimetter su dei dischi magari rimasterizzati oggi anche in digitale per esempio e mi rendo conto come le cose che sentivo all'epoca magari nel Reader's Digest piuttosto che nel primo giradischi della Technics piuttosto che nel vecchio amplificatore Camwood o le casse ESB oggi le sento con le Bauer & Wilkins e mi rendo conto che ci sono cose che non avevo mai ascoltato anche perché ho migliaia di dischi e magari non è che le risento sempre però questo gusto della riscoperta e credo che la musica liquida oggi abbia un po' questo grande fascino cioè quando sono fatti bene i file digitali che vengono riproposti veramente dai nastri originali rimasterizzati in maniera concreta ti offrono quel qualcosa in più che nessun disco precedente che tu hai ha capisci come quando vedi film rimasterizzati in 4k dalle pellicole originali 35 mm fatti da Magadè quello è la cosa in più ed è credo un'emozione che ti arriva al cuore direttamente che non è solamente estetica dico io mi è capitato ultimamente dopo un cambio casse cambio diffusori di mettere su un disco e sentire delle piccole spazzolate sul rullante del batterista che prima ma sono proprio delle cose talmente leggeri che prima non le avevo mai percepite o comunque non così nettamente sfido chiunque poi un musicista cioè io sono anche musicista a non emozionarsi per questo questa è l'emozione c'è poco da fare tu l'altro giorno mi hai chiesto a proposito di un disco di Ella Fitzgerald che è stato rimasterizzato adesso dall'Acoustic Sounds per la Verve io quando l'ho messo su sono rimasto sconvolto perché avevo le versioni CD di quell'album lì e non c'è proprio paragone cioè quel disco lì in vinile mi fa sentire Ella Fitzgerald come io non ho mai sentito in vita mia quindi questo è un po' quello che il mondo dell'i-fi a qualsiasi costo voglio intendo dire sia un impianto normale che un impianto di altissimo livello anche quello che ascolta con impianti diciamo così poco costose si deve aspettare sempre credo la massima qualità possibile che gli consente il suo mezzo è come avere una macchina c'è chi ha la Panda chi ha una macchina tedesca altre prestazioni però alla fine il viaggio la bellezza di quello che guardi fuori non te lo dà il veicolo in quel caso lì ma l'emozione che tu provi facendo quel tipo di viaggio forse magari è un paragone che non c'entra molto però no no però se con la Panda ti aspetti ad andare in pista e fare il giro record è chiaro infatti hai una prospettiva sbagliata usa bene quello che hai tratta bene quello che hai se ci fumi dentro farà schifo la Panda cioè che voglio dire a parte che se ai fumatori magari piace se ci spegni le cicche continuamente non sarà una bella esperienza rimontarci sopra quindi ecco avere quello che hai trattarlo bene cercare di tirar fuori il meglio e poi in futuro in futuro si vedrà va bene io vi ringrazio è stata una meravigliosa commemorata vi invito a visitare il sito di Audio 2G che ripeto linkerò qui sotto in descrizione Marco con te ovviamente ci rivediamo alla prossima puntata sulle uscite anche perché dobbiamo parlare di questi assolutamente sì guarda assolutamente sì mio portafoglio ti ringrazio benissimo allora vi saluto grazie a tutti e ovviamente seguite anche gli appuntamenti gli articoli di Audio 2G che escono anche su Music Off ovviamente ogni sabato ogni sabato ogni sabato allora grazie ragazzi e alla prossima ciao ciao